Presidente, un momento importante a Superga con tutto il settore giovanile, una giornata fortemente voluta da lei per il quarto anno consecutivo? Una giornata voluta da me insieme a Donaldo, diciamo che Donaldo Rabino fu appunto poi l'animatore di questa giornata bella per tutto il settore giovanile, c'erano tutti dalla primavera alla Beretti agli allievi giovanissimi, tutti piccoli, esordienti, pulcini, le ragazze del Toro perché abbiamo anche un torino femminile con 60 tesserati, per cui insomma eravamo credo più di 500 persone, più tutti genitori, era veramente uno spettacolo bellissimo di vedere la chiesa di Superga tutta con ragazzini del Toro, con le maglie del Toro, con le tute del Toro, veramente bellissimo e io ricordo Donaldo che appunto due anni fa ci ha lasciato ma è stato veramente un grande animatore di tante iniziative belle, positive e questa è una di queste. Quanto è importante un momento così per trasmettere a tutti i ragazzi i valori del Toro? Ma credo che sia importante per trasmettere appunto un momento di unità, un momento di preghiera, un momento di ricordo dei nostri grandi calciatori del grande Torino che purtroppo sono mancati giovani e fortissimi e quindi vanno ricordati, però devo dire c'è sempre una grande voglia di un grande attaccamento diciamo al Toro, al grande Torino, a tutto quello che è Toro, quindi questo è un momento bello, un momento in cui si trasmettono dei valori positivi e importanti a tutti i bambini, tutti i giovani, un valore importante è quello come diceva Don Riccardo impegnarsi al massimo, essere corretti e divertirsi. Io ho detto anche studiare perché dallo studio poi se uno studia e aumenta le capacità di conoscenza sicuramente poi può diventare anche un calciatore migliore, sicuramente un uomo migliore è una persona capace di inserirsi poi nella società. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti